Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Mirko e questo è un nuovo video. Se il caldo qua fuori non mi costringe a una forma liquida, oggi dovremo riuscire a registrare il wrap up di giugno. E ci tenevo particolarmente a registrare questo video che sto rimandando ormai da qualche giorno, ma appunto il caldo non mi ha permesso anche mentalmente di riuscire a registrare un video come wrap up, che forse fra tutti è quello che necessita di maggiore cura, attenzione e soprattutto tempo. Ma eccoci qua, ci tenevo veramente tanto a registrare questo video in cui andremo a parlare ovviamente di tutte le letture fatte a giugno, perché giugno è stato un mese particolarmente proficuo per quanto riguarda le letture che ho fatto. In modo particolare perché ci sono state delle scoperte inattese, libri che non avevo considerato minimamente di leggere durante questo mese, ma che appunto preso come sempre dall'ispirazione mi sono fatto lasciare trasportare e davvero mi sono concesso delle letture che mi hanno soddisfatto tantissimo. Ho fatto diverse letture, molte letture soprattutto variegate, ci sono tantissimi generi diversi all'interno di questo video. Sono contentissimo quindi di mettermi qui a registrare questo wrap up, quindi prendetevi qualcosa da mangiare, da bere, un gelato, qualcosa di fresco perché appunto stiamo letteralmente morendo dietro questo caldo, ma va bene anche così, è giusto anche così. E io direi di cominciare con quella che è stata la prima lettura di giugno e andiamo molto veloci perché si tratta di un sequel, quindi non ci soffermeremo più del necessario. E ovviamente si tratta della Repubblica del Drago di R.F. Kuang, il secondo libro della trilogia iniziata con La Guerra dei Papaveri. Trilogia che come sempre io vi consiglio caldamente, è stata una delle mie serie preferite del 2020, una delle serie che ho apprezzato di più negli ultimi anni, devo dire, è entrata a pieno tra le mie serie preferite. E La Guerra dei Papaveri è appunto questa saga di ispirazione asiatica che in Italia è edita da Oscar Volt e siamo arrivati a questo secondo volume che io attendevo con grande impazienza. Uno, perché il primo libro mi aveva letteralmente sconvolto, avevo adorato la storia, avevo apprezzato tantissimo il personaggio di Rin, un personaggio che, per quanto mi riguarda, è una delle migliori protagoniste scritte in questi ultimi anni. Rin è un personaggio che per molti potrebbe essere un grandissimo ostacolo, perché non è un personaggio semplicissimo da apprezzare e da capire, ma allo stesso tempo credo che abbia una coerenza che lo rende un grandissimo personaggio. E questo secondo volume, secondariamente, era molto atteso da parte mia perché ho sentito recensioni particolarmente entusiaste di questo libro all'estero, che lo andavano un po' a osannare ancora più del primo e effettivamente ho capito per quale motivo. La Repubblica del Drago è un sequel molto molto più che degno. Secondo me raggiunge dei livelli assai più alti rispetto alla Guerra dei Papaveri sotto tanti punti di vista. Prima di tutto anche dal punto di vista narrativo della scrittura della Quang, che seppur già nella Guerra dei Papaveri, secondo me, aveva un suo stile, qui ha raggiunto degli scalini ulteriori. Mi è piaciuto molto di più come ha gestito anche la narrazione stessa della storia, come le tempisti che avvengono e come tutto quanto, appunto, prosegue fino ad arrivare questo finale che mette le carte in tavola per il volume conclusivo della saga, che spero arriverà più presto possibile della trilogia non saga. Dall'altra parte, credo che sia un grandissimo sequel perché quello che accade qua l'ho trovato particolarmente vivido e molto molto forte. Ho apprezzato tantissimo l'evoluzione del personaggio di Rin. In questo secondo volume vediamo una Rin che sta cercando di metabolizzare tutto quello che è successo nella prima parte della storia e vediamo come si approccia a quello che sta vivendo ora, tutta la situazione che si sta mano a mano creando intorno. Non vado oltre perché restirei di fare spoiler, ma appunto credo che l'evoluzione di Rin prosegua sempre su questa linea di coerenza davvero molto molto forte. Dall'altra parte, credo che sia un libro estremamente politico sotto tutti i punti di vista, partendo da un punto di vista del tutto legato alla narrazione della storia, ma anche appunto da un punto di vista contemporaneo. L'ho trovato particolarmente convincente, un secondo volume secondo me pienamente da 5 stelle per quanto mi riguarda. Non sono riuscito davvero a smettere di leggere questa seconda parte della storia. Era quasi diventata un'ossessione cercare di capire come le cose sarebbero andate avanti. È un libro lungo, è un libro che ha i suoi tempi perché comunque le cose succedono quando devono succedere. Ci sono dei momenti in cui le cose sono più quiete, anche se nell'effettivo non lo sono mai, ma dove l'azione appunto tende a mancare per una riflessione ulteriore, per scavare ulteriormente in quella che è ormai diventata la mente di Rin che è particolarmente distorta e poco equilibrata e stiamo cercando appunto di capire come sistemare tutta questa situazione. Io l'ho trovato veramente meraviglioso. Detto questo non dico altro, per molti potrebbero essere semplicemente parole a caso e vi capisco. Comunque ne parleremo meglio poi su live del Book Hunters Club che ci sarà il 18 luglio sul mio canale. Quindi domenica 18 luglio è stata rimandata per motivi personali dei membri del Book Hunters Club ma appunto poi ne parleremo insieme con tutti gli spoiler del caso. Comunque preparatevi se ancora non l'avete letto perché ecco si soffre molto in questo libro, si soffre molto. Siamo già arrivati a quello che con ogni probabilità sarà il mio momento preferito del Drop Up perché non vedevo l'ora di registrare questo video proprio in vista di questo momento. Nelle ultime settimane sono stato, non voglio dire costretto perché è un termine forte ma diciamo spronato con estrema forza da Elena del canale di Miss Nerlin a leggere Lucky in the Shadows di Aline Flaywelling. E l'ho fatto. Ho rimandato la sua lettura per tantissimo tempo e non so nemmeno io spiegarmi il motivo visto che comunque aveva tutte le carte in regola per diventare uno dei miei libri preferiti. E effettivamente è quello che è successo perché ho letto Lucky in the Shadows e mi sono totalmente innamorato di questa saga e dei suoi personaggi. Ma che cos'è Lucky in the Shadows? Lucky in the Shadows è il primo libro della serie The Night Runner serie composta da ben sette libri più vari racconti spazi che sono stati raccolti all'interno di un'edizione cartacea che potete tranquillamente trovare online a differenza dei libri principali che a quanto pare sono introvabili almeno su Amazon e altri e-commerce che spediscono in Italia ecco, sono difficilmente reperibili. Per quanto riguarda l'edizione italiana perché sono sicuro che molti di voi lo chiederanno Esiste un'edizione italiana? Sì, i primi tre libri sono stati pubblicati davvero tantissimo tempo fa all'interno della fantacollana Nord ma proprio come tante altre serie fantasy ormai pubblicati da decenni hanno fatto una fine, ecco, non proprio felice infatti la Nord non ha mai continuato la pubblicazione sono solamente usciti i primi tre libri e tutt'oggi comunque sono fuori catalogo sono praticamente introvabili se siete fortunati potete cercare nell'usato qualche mercatino anche online e magari riuscite a trovare qualche edizione ma comunque non c'è poi la traduzione dei libri restanti e questo è un vero peccato io spero che prima o poi questa serie venga riproposta in Italia perché tanto all'estero quanto ovviamente in Italia questa è una serie che io ho sentito veramente girare poco su internet se ne parla molto poco su Booktube o su Instagram o su qualsiasi altro social che comunque comprende la Booktube community qui in Italia l'unica appunto che ne ha parlato in qualche modo è la del canale Miss Nerylind è veramente un peccato perché è una serie davvero incredibile ma a parte tutti i lati tecnici che voi direte sì certo Mirko ma ne parliamo? Parliamone protagonista della storia è il nostro meraviglioso Alec un esserino unico nel suo genere meraviglioso un ragazzo di 16 anni molto ingenuo ma allo stesso tempo estremamente curioso Alec ha una domanda per qualsiasi risposta gli venga data e all'inizio del libro lo vediamo in una situazione alquanto difficile per lui non sa come comportarsi non sa come uscirne perché viene imprigionato viene messo in prigione dopo essere stato accusato ingiustamente di essere una spia e Alec si trova effettivamente in difficoltà non sa che cosa fare non sa letteralmente dove sbattere la testa ma qualcuno sa che cosa fare perché Alec non è il suolo all'interno di questa prigione c'è qualcuno a condividere questa cella fredda, buia e umida questo qualcuno è un uomo un uomo estremamente misterioso molto affascinante è una figura molto estrosa che dice di chiamarsi Roland Silverleaf e le cose che dice ad Alec sono altrettanto estrose perché dice di avere amici potentissimi, ricchissimi e pericolosissimi fuori dalla prigione che è un bardo e che quindi ha viaggiato in lungo e in largo per tutto il regno ha visitato corti, ha conosciuto persone in lungo e in largo ma la cosa che colpisce nel profondo il nostro ingenuo e tenero Alec è il fatto che questo Roland ha visto i draghi e Alec rimane sconvolto da questa notizia i draghi quindi esistono e se Alec non sa che cosa fare non sa come sfuggire a questa prigionia Roland invece sa che cosa fare sa come comportarsi perché Roland ha un piano ovvero fuggire da questa prigione e Alec inizialmente ci pensa due secondi prima di accettare non sa se fidarsi o meno di questo personaggio molto molto ambiguo che non conosce assolutamente quello che sta dicendo potrebbero essere tranquillamente menzogne su menzogne ma ragazzi questo Roland che poi si scoprirà essere Seregil il suo vero nome è Seregil ha visto i draghi e questo ad Alec basta basta e avanza e quindi i due riusciranno a uscire di prigione ovviamente e da questo momento in poi comincerà tutta la storia dove vedremo Alec e Seregil partire praticamente all'avventura affrontare questo viaggio che li porterà in un determinato luogo dove succederanno cose dove conosceranno incontreranno e rivedranno personaggi persone che già conoscono e si metteranno in moto delle cose questo è la trama del libro cioè la base da cui parte tutto quanto e allo stesso tempo dice molto perché ti presenta tutta quanta la situazione effettivamente come ti vendono il libro ma allo stesso tempo all'interno di questa saga all'interno di questa storia c'è molto molto di più è una storia che si lascia scoprire mano a mano durante la lettura e soprattutto è una storia che evolve tantissimo e che ti presenta così tanti elementi da risultare anche eccessivo ma non lo è mai perché se c'è una cosa in cui la Flewelling è brava è la capacità secondo me sorprendente e davvero unica nel riuscire a gestire una storia davvero su larga scala perché quella che la Flewelling racconta il mondo che riesce a creare i personaggi che mette all'interno di questo mondo sono veramente perfettamente costruiti e dettagliati nei minimi particolari e vedremo soprattutto nel primo libro quello che sostanzialmente è l'apprendistato di Alec perché appunto in questa storia si parla di magia ci sono persone con capacità magica quindi sostanzialmente dei maghi ma allo stesso tempo ci sono spie ci sono assassini insomma c'è veramente tanto e nel primo libro è sostanzialmente tutto questo lungo apprendistato di Alec in cui imparerà a conoscere se stesso a capire e a comprendere quali sono i suoi limiti fin dove può spingersi e il rapporto che si costruisce tra Alec e Serevil ovviamente ma poi con tutti gli altri personaggi ce ne sono tantissimi secondo me è sorprendente una delle cose che ho davvero apprezzato di questa storia è da una parte Alec e Serevil che sono due personaggi secondo me indimenticabili sono personaggi che puoi percepire davvero come persone umane hanno dei sentimenti delle emozioni e vengono esplorati scavati e il lavoro che la Fully Whaling fa su questi personaggi in modo particolare sui nostri due protagonisti è eccellente stessa cosa però per i personaggi secondari i personaggi che circondano sia Alec e Serevil come vi dicevo sono tantissimi ci sono personaggi secondari e personaggi secondari ancora di più dei personaggi secondari stessi e anche qua c'è un lavoro davvero di fino da parte della Fully Whaling perché tutti questi personaggi hanno una loro storia e dà la possibilità a loro di raccontare questa loro storia di esprimersi e noi attraverso tutto questo impariamo a conoscerli ad attenzionarsi a loro e vediamo proprio queste relazioni che vengono instaurate tra i personaggi che io ho veramente amato alla follia e poi come vi dicevo c'è il world building il mondo che la Fully Whaling crea per questi personaggi un mondo fatto di tanti dettagli anche minimi che vanno ad arricchire questa storia e anche questo è uno degli aspetti che ho più apprezzato di questa saga soprattutto però andando avanti perché è un mondo bastissimo che inizialmente percepisci come piccolo perché ci muoviamo poco nel primo libro sostanzialmente giriamo su gli stessi setting ma anche quelli sono pieni di dettagli creano atmosfera e hanno appunto una loro dimensione ma andando avanti con la storia tutto questo cresce sempre di più quindi visitiamo un posto piuttosto che un altro e quel posto ha una sua cultura ha delle usanze e vengono studiate vengono spiegate vengono mostrate al lettore e ho apprezzato moltissimo questo aspetto questo è il modo in cui un mondo fantasy dovrebbe essere costruito dovrebbe essere inventato a partire da zero ovviamente poi c'è anche una trama ci sono tante trame il primo libro come vi dicevo se andiamo più da vicino più attentamente è quello che è il percorso l'apprendistato umano e meno di Alec ma allo stesso tempo ci sono delle sottotrami che hanno a che fare con dei migromanti che fanno cose che ecco creano difficoltà popoli culture regni che sono in conflitto tra di loro quindi c'è tutta una parte più di azione ma allo stesso tempo una parte più riflessiva in cui c'è tanta politica anche qua in modo particolare nei libri successivi se devo trovare un difetto a questo libro è che la Flea Welling a questa saga più che altro è che la Flea Welling tende molto a perdersi durante la narrazione è un libro che potrebbe risultare lento e è lento nell'effettivo è oggettivamente un libro molto lento ci sono molti momenti in cui l'azione ecco va avanti a stento sembra quasi fermarsi di botto per poi ripartire qualche pagina dopo ma questi momenti sono utili proprio per esplorare quelli che sono i nostri personaggi e il modo che ha di perdersi la Flea Welling nel raccontarci questa storia secondo me è sì un piccolo difetto che per molti potrebbe essere un difetto ma per me allo stesso tempo è considerabile facilmente un pregio perché io amo i libri lenti amo i libri che si prendono nel loro tempo ma soprattutto amo i libri che si permettono e che permettono al lettore di conoscere veramente i personaggi di cui stiamo leggendo e la Flea Welling ci riesce e ci riesce davvero molto molto bene non vedo l'ora di andare avanti con la serie le cose stanno peggiorando sempre di più perché le cose che succedono sono sempre in precario equilibrio tutto quello che ci viene mostrato sembra quasi destinato a fallire o a cadere prima o poi durante il corso della storia non vedo l'ora di vedere come il rapporto di Alex Eregil si costruirà andando avanti sta assumendo delle dimensioni sempre più grandi sempre più familiari perché Alex Eregil hanno questo rapporto estremamente ampio si parte con una parvenza di amicizia e poi si struttura effettivamente con amicizia ma allo stesso tempo sono come padre figlio quindi questo rapporto familiare più intimo ma poi c'è anche l'amore visti come coppia e sono una delle cose più belle dolci appassionanti di cui io abbia mai letto oh mio dio non so quanto ho parlato di Lucky in the Shadows ma veramente dovevo dovevo parlarne con qualcuno quindi mi sembrava lo sfogo più ecco veloce che potessi avere se non avete mai letto questa saga se non la conoscevate dategli un'opportunità perché se vi piacciono tutti questi elementi sono sicuro che comunque vi appassionerà e anche voi vi innamorerete di tutto quello che la Flewaling è riuscita a creare con Alex Eregil da una parte tutto questo mondo la magia che lo circonda mio dio bellissimo bellissimo e super consigliato non vedo l'ora di leggere il quarto libro perché sì ho scordato in tutta questa marea di parole di dire che appunto a giugno ho letto anche il secondo libro Stalking Darkness forse l'ho accennato durante tutto il discorso che mi è piaciuto ancora più del primo se possibile perché le cose si fanno ancora più interessanti la trama anche qua progredisce e si amplia sempre di più stessa cosa per il rapporto con i personaggi e spoiler a luglio e primi di luglio ho già letto il terzo volume che è sempre meglio anche qua le cose si ampliano ma ne parleremo magari più là e ora appunto devo leggere il quarto e non vedo letteralmente l'ora di tornare da Alec e Sergill e tutti gli altri intanto voi leggete e amatelo tantissimo dopo aver conosciuto Alec e Sergill dopo essere entrato in questo meraviglioso tunnel che è la serie di The Night Runners della Fully Welling ho deciso di cominciare un altro libro che era prepotentemente alto all'interno della mia TBR ovvero La leggenda del cacciatore di aquile di Jin Yonga libro su cui avevo delle aspettative non avevo delle aspettative alte o meglio avevo delle aspettative che in qualche modo però mi ero ridimensionato perché avevo il timore che potesse in qualche modo deludermi non tanto una delusione ma quanto semplicemente non piacermi invece contrariamente a tutti questi i miei pensieri questo volume si è rivelato uno dei più belli letti per ora nel 2021 è stata una grandissima sorpresa questo libro il modo in cui mi sono appassionato a questa storia mi ha davvero sorpreso non mi aspettavo minimamente di essere così tanto coinvolto da quello che ci racconta Jin Yonga La leggenda del cacciatore di aquile è uscito recentemente per Oscar Volta è il primo libro di una serie Vuxia ovvero un genere letterario cinese che ha a che fare con le arti marziali diciamo in parole povere possiamo paragonarlo in un aspetto più occidentale allo sword and sorcery ma ha caratteristiche elementi completamente diversi però appunto si basa sull'utilizzo di qualche arma di qualche metodo di difesa diciamo e in questo caso appunto il Vuxia è proprio incentrato su quello che è il padroneggiare le arti marziali e questo è considerato uno dei capostipiti del genere in Cina si tratta di un capolavoro riconosciuto del genere che io avevo in TBR da tantissimo tempo ma essendo un libro cinese non mi sono mai approcciato alla sua traduzione inglese perché non me la sentivo e meglio così visto che addirittura nell'edizione inglese hanno tradotto i nomi cinesi con una traduzione letteraria inglese quindi ok in Italia questo fortunatamente non è successo il ciclo di libri che tra l'altro ha ispirato innumerevoli produzioni cinematografiche e televisive più o meno parzialmente ispirate alla storia che ci viene raccontata storia ambientata nella Cina del 1200 d.C l'imper song è quasi completamente invaso dagli yurken questi barbari provenienti dal nord che sono arrivati hanno conquistato la maggior parte dei territori e ovviamente di conseguenza hanno reso la popolazione completamente soggiocata le premesse iniziali della storia ci rendono protagonisti due personaggi da una parte abbiamo Guao Xiatian scusate immediatamente per la pronuncia imbarazzante dei nomi ma è anche difficile ricordarli e dall'altra Yang Tianxin in questo primo volume però andremo a seguire più da vicino il primo infatti a combattere l'avanzata degli invasori c'è l'eroe mongolo Temujin un personaggio che passerà alla storia con il più famoso nome di Gengis Khan un eroe anzi un guerriero rispettato e temutissimo da tutti che per una serie di motivi che ovviamente non vi sto a dire ma che leggerete nel libro si ritroverà a crescere sotto la sua alla protettrice il nostro Guao Xiantian ora le origini di Guao sono da rintracciare nel suo passato perché c'è una promessa che è stata fatta un patto che è stato fatto tra suo padre che ormai è morto e un suo carissimo amico un patto che in qualche modo è andato a definire il destino di Guao Xiantian Guao ormai cresciuto dovrà essere addestrato dai sette ballordi del sud dovrà poi ritornare in Cina e lì dovrà battersi con il suo avversario dalla nascita ovvero Yang Tietzien la vita di Guao però si rivelerà molto più complessa di così quel destino che è stato già scritto per lui fin dalla nascita dovrà affrontare un percorso fatto di tante sfide diverse cioè una vendetta che deve portare a compimento delle guerre che deve essere pronto a combattere e soprattutto questo allenamento sfiancante queste tecniche che deve imparare per poi battersi ora è molto complesso fare un assunto soddisfacente di questo libro perché anche qua si rivelerà poi un libro fatto di tanti strati diversi e ho trovato particolarmente curioso perché forse non sono abituato a questo tipo di letteratura la struttura di questo libro perché l'inizio del libro in cui io già ve lo dico vi ritroverete completamente espaisati perché l'autore comincia a citare personaggi con dei nomi per noi ovviamente molto complessi da pronunciare e soprattutto da ricordare e farete appunto confusione nel cercare di capire di comprendere di chi stiamo esattamente parlando e l'inizio del libro sembra quasi un prequel alla storia che poi ci verrà raccontata successivamente ma soprattutto alla storia che verrà nei volumi successivi perché in questo primo libro sostanzialmente che è un bel volume comunque sostanziose di cose ne succedono c'è solamente però una piccola scintilla di quella che comunque si vede è una storia ben più ampia una storia che sicuramente andrà a esplorare tantissime cose diverse ho trovato questo libro davvero sorprendente come vi dicevo inizialmente per diversi motivi sicuramente se amate la cina questo tipo di cultura quindi tutte le varie tradizioni e ovviamente anche le arti marziali questo è un libro che potreste facilmente adorare primo perché le scene di azione in cui vediamo questi combattenti sfidarsi a colpi di arti marziali sono davvero molto molto appaganti cioè sono ben descritte hanno davvero un'atmosfera molto cinematografica nel modo in cui progrediscono e diventano mano a mano sfuggono completamente di mano assumono proprio dimensioni molto molto epiche allo stesso tempo c'è tutta questa trama che viene portata avanti con estrema lentezza nel libro colpi di scena che si sussegueranno soprattutto nella parte finale e un cast di personaggi molto molto ampio e i personaggi sono una delle cose più particolari di questo libro perché sono personaggi che ci vengono presentati come protagonisti quasi di una leggenda quindi il tono con cui l'autore affronta la loro caratterizzazione il modo di spiegarti di farti conoscere questi personaggi risulta quasi freddo cioè si ha quasi l'impressione di non riuscire a empatizzare con loro in verità poi mano a mano questi personaggi diventano veramente qualcosa di molto molto vicino impari a conoscerli così tanto profondamente sotto tanti punti di vista diversi che sembra davvero quasi di star leggendo qualcosa che conosci da una vita perché la loro storia progredisce mano a mano ed è una storia che appunto prende piede su un lasso di tempo considerevole soprattutto poi immagino andando avanti e se inizialmente c'è questa fatica si progredisce faticosamente nel cercare di capire quale personaggio ha quel determinato ruolo che cosa fa quel personaggio nell'economia della storia poi tutto risulterà molto più naturale e anzi questi personaggi risultano estremamente riconoscibili ci sono all'interno di questo libro dei personaggi che per quanto mi riguarda sono davvero epici e memorabili soprattutto alcuni di loro si farà poi estrema facilità invece ad affezionarsi sia il personaggio principale perché wow sostanzialmente è una persona che non vorrei considerare inetta nella vita perché non è così ha le sue capacità ma allo stesso tempo ecco gli sfugge sempre qualcosa quindi è un personaggio molto ingenuo che si lascia prendere da quello che gli succede intorno sembra quasi non ragionare sulle cose sui suoi comportamenti su le ripercursioni delle sue azioni quindi alla fine c'è un impatto molto forte emotivamente parlando con questo personaggio e ora sono curiosissimo di capire come andrà avanti anche qua devo mettere le mani avanti perché è un libro anche in questo caso forse molto più rispetto a Lucky in the Shadow estremamente lento nel suo progredire l'autore si prende tutto il tempo necessario per raccontarti la sua storia non si fa prendere mai dalla fretta anzi se può arricchisce qualsiasi scena con mille particolari diversi soffermandosi anche su aspetti che inizialmente potrebbero sembrare irrilevanti irrilevanti al lettore che invece non fanno altro che dare un contributo secondo me molto molto forte poi alla storia presa integralmente ovviamente ci sono delle parti che ammetto molte volte risultano quasi pesanti quasi sembrano non scorrere ma andando avanti la storia comincerà a prendervi sempre di più perché imparerete a familiarizzare in qualche modo con quello che si sta raccontando ho davvero apprezzato questo libro molto di più di quanto avessi semplicemente immaginato inizialmente non mi aspettavo che mi avrebbe catturato così tanto per me è risultato anche qualcosa di inedito perché effettivamente nel panorama italiano del fantastico questo è estremamente inedito ha una cultura quindi un approccio a tutto quanto completamente diversi da un fantasy occidentale quindi consigliatissimo se vi piacciono libri che comunque ecco dovete avere pazienza nel entrare pienamente all'interno della storia ma poi alla fine vi darà secondo me grandi grandi soddisfazioni e guardate ne vale anche solo la pena per conoscere il personaggio di Mei Chaofeng meglio conosciuta come Cadaveri di Ferro è arrivato il momento di cambiare completamente direzione con The Inheritance Game di Jennifer Lynn Barnes uscito recentissimamente in Italia da Sperlian Kaffer si tratta del primo libro di una trilogia di una serie non so assolutamente di quanti libri si comporrà nell'effettivo ma quello che so è che il secondo libro deve ancora uscire anche in America altrimenti me lo sarei già letto devo essere sincero comunque primo libro di una serie young adult mystery il mistero sta alla base di tutta questa storia storia che vede come protagonista la nostra Avery una liceale che ha una situazione familiare poco felice diciamo così ma dalla sua ha un'intelligenza decisamente spiccata i piani per il futuro di Avery sono già ben delineati nella sua mente vuole ovviamente finire il liceo quindi uscirne prendere una bella borsa di studio andarsene al college e da lì cominciare a costruirsi una parvenza di vita ma le cose non andranno così perché la fortuna quanto pare forse la sfortuna bussa alla porta di Avery infatti improvvisamente arriva la notizia che un misterioso e sconosciuto miliardario di nome Tobias Hawthorne gli ha lasciato tutta la sua eredità Avery non sa chi sia quest'uomo non sa perché ha lasciato tutta la sua eredità a una sconosciuta come lei che non ha nessun collegamento di sorta con la famiglia Hawthorne ma appunto Avery quindi verrà condotta verso l'immensa maggiore del defunto Hawthorne e qui gli verranno un po' spiegate le cose a vivere in questo maggiore ovviamente ci sono tutti gli eredi i veri eredi di Hawthorne che sono rimasti a bocca asciutta diciamo ce n'è anche per loro ma la maggior parte dell'eredità appunto è stata data donata ad Avery in qualche modo non si sa perché ma ovviamente nel testamento lasciato da Hawthorne c'è un piccolo cavillo infatti Avery per riscattare per prendersi questa eredità dovrà trasferirsi nella villa nella magione degli Hawthorne e vivere lì il problema anche qui è che la casa è un mistero di per sé è fatta di tantissime stanze corridoi segreti che portano a puzzle enigmi e effettivamente tutta questa eredità tutta questa storia per Avery sarà un enigma tanto quanto appunto i veri eredi di Hawthorne quattro ragazzi anche loro più o meno adolescenti dai 17 ai 20 anni che cercheranno in qualche modo di sfidare Avery e da qui partirà tutta quanta la storia non voglio dirvi di più ma questo è sufficiente per capire che cosa troverete all'interno di questo libro ovvero un sacco di mistero sostanzialmente come vi dicevo la storia viene portata avanti proprio da tutto questo mistero da una parte il perché questo miliardario abbia lasciato la sua eredità ad Avery e dall'altra tutta quella parte di mistero che comincia a strutturarsi quando Avery si trasferirà in questa magione e comincerà a notare che Hawthorne il defunto appunto quest'uomo ha lasciato tanti indizi tanti collegamenti tanti misteri che Avery in qualche modo dovrà cercare di risolvere allora The Nerithans Games era un libro che io non vedevo l'ora di leggere ed è stata una boccata d'aria fresca devo ammetterlo in questo mese di giugno anche perché ho letto comunque delle letture abbastanza pesanti in quanto a mole mi hanno preso molto tempo questo l'ho letteralmente divorato e mi ha divertito davvero davvero tantissimo ovviamente stiamo parlando di una lettura che ha lo scopo più che dichiarato di intrattenere il suo lettore e ci riesce perché la Barnes riesce in qualche modo a creare questo mistero che piano piano comunque assume una struttura sempre più importante si risolvono indovinelli si risolvono puzzle cominciano un po' a venire a galla determinate questioni e la cosa si ingigantisce sempre di più per arrivare poi al finale una cosa che ho apprezzato tra l'altro è il personaggio di Avery e ho cominciato a apprezzarla quando nel momento in cui viene a scoprire di questa eredità che gli è stata lasciata da questo sconosciuto ecco lei comincia a pensare alla questione non tanto ma perché quest'uomo che io non conosco che presumibilmente nemmeno lui mi conosce mi ha lasciato tutti questi soldi ma a quanto ammonta questa eredità cioè quanti soldi mi ha lasciato in quel momento Avery ho cominciato ad apprezzarla veramente tantissimo andato avanti un po' si perde ma comunque riesce a mantenere il gioco molto curiosi e anche qua riescono a tenere bene tutta quanta la situazione sono poi personaggi secondari ovvero la famiglia Hawthorne abbiamo come coprotagonisti di Avery questi quattro ragazzi Hawthorne ovvero adolescenti in questo caso ognuno che ricalchi in qualche modo un po' uno stereotipo se così vogliamo dirlo ci ritorniamo in questa situazione che sembra quasi un harem quindi capirete che ci saranno degli inciuci amorosi che comunque non prendono poi così tanto all'interno della storia anche se ecco c'è una parvenza di amore a prima vista che devo dire un po' ha rovinato tutta la situazione comunque la parte romance esiste all'interno della storia ma appunto non ci concentriamo maggiormente lì quello che interessa veramente l'altro dice proprio farti conoscere il mistero essere partecipe del mistero insieme ad Avery e devo dire che riesce nel suo intento cioè il mistero per quanto magari in alcuni punti può essere più scontato che in altri comunque è davvero qualcosa che riesce ad intrattenerti veramente tantissimo è costruito secondo me molto bene come mistero anche arrivati alla fine comunque ti dà delle sensazioni cioè una soddisfazione che comunque non pensavo mi avrebbe dato inizialmente quindi lettura molto molto divertente perfetta per questo periodo estivo sicuramente grazie anche a questi capitoli cortissimi riuscirete a divorarlo veramente se avete il blocco del lettore per esempio questo secondo me è un libro perfetto perché la lettura è scorrevole lo stile di scrittura appunto non si prende troppo sul serio anche i ragionamenti che dobbiamo fare che la protagonista fa comunque sono facili da seguire quindi davvero una lettura molto molto divertente che mi aspettavo da una parte ma si è rivelata anche più interessante di quanto pensassi inizialmente non vedo l'ora di leggere il secondo sono davvero molto curioso visto questo finale emblematico che comunque ecco mi ha incuriosito tantissimo assolutamente promosso ve lo consiglio moltissimo passiamo adesso alla prossima lettura e qui sarà difficile sarà difficile trovare le parole giuste e adatte per riuscire a comunicarvi quanto io abbia amato adorato completamente questo romanzo forse a molti di voi già lo sapranno ma Jane Eyre di Charlotte Bronte è uno dei miei romanzi preferiti di sempre uno dei miei classici preferiti di sempre se non il mio classico preferito di sempre e in Jane Eyre c'è un personaggio molto molto secondario un personaggio che non ha mai avuto nell'effettivo modo di esprimere la sua voce di raccontare la sua versione dei fatti il nome di questo personaggio è è Bertha Mason che noi in Jane Eyre praticamente conosciamo solo come il fantasma la pazza che vive in festa la soffitta della magione di Mr. Rochester c'è qualcuno però che ha voluto dare una voce a Bertha e questo qualcuno è Gene Rees con Il grande mare dei sargassi libro che appunto come vi dicevo inizialmente ho amato sotto tutti i punti di vista possibili in questo piccolo ma veramente molto intenso romanzo Gene Rees ci racconta la sua storia in questa già e mai caposto coloniale del 1830 dove Antoinette che noi conosciamo come Bertha Mason è costretta a questo matrimonio di convenienza con un ricco uomo inglese che è appunto Mr. Rochester Gene Rees sviluppa il libro in queste tre parti che sono ovviamente collegate tra di loro ma allo stesso tempo sono anche nettamente divise l'una dall'altra la prima è quella in cui noi assistiamo alla prima parte della vita scusate la ripetizione di Antoinette che vive in questo piccolo villaggio della Giamaica un villaggio pieno di sfumature dove bianchi e neri vivono insieme quindi la questione raziale è molto molto importante per tutto il romanzo per la storia di Antoinette e poi nella seconda invece ci spostiamo più da un punto di vista di Mr. Rochester e qui iniziano un po' i problemi questo matrimonio che viene concordato tra i due ovviamente i soldi sono alla base di tutto quanto parte in un modo per poi svilupparsi con dei sentimenti di rabbia frustrazione che portano questi due personaggi quindi Mr. Rochester da una parte e Antoinette Berta dall'altra ha un odio definibile quasi come animalesco il romanzo è di un'emotività che io ho trovato personalmente dirompente vedere tutta la storia che noi in parte conosciamo da Jane Eyre attraverso quindi gli occhi di Jane ma anche di Mr. Rochester ecco vedere tutta quella storia da un punto di vista diverso sicuramente porta anche a una certa rivalutazione di tutto quanto ovvio questa è la versione di Jane Rees ma comunque il Tarlo riesce a mettertelo perché riesce in qualche modo a creare questi personaggi che sono perfettamente coerenti con quelli di Charlotte Bronte ma gli dà anche un twist in più soprattutto al personaggio di Antoinette slash Berta che noi non abbiamo mai conosciuto e qui invece assume un'anima ha una voce questa voce che vuole essere ascoltata e il personaggio di Antoinette è estremamente complesso è un personaggio molto stratificato pieno di livelli diversi che noi attraverso l'istoria che appunto impariamo a comprendere questa follia a cui viene portata per vari motivi diversi che non vi sto a dire io l'ho trovata da una parte estremamente triste ma dall'altra anche molto molto affascinante la complessità poi del rapporto tra Rochester e Antoinette secondo me è costruita nella parte centrale del romanzo diciamo un po' che è il nucleo di questa storia con una maestria unica anche perché la prosa del romanzo è impeccabile in ogni sua parte un libro che ripeto non riesco a trovare le parole adatte forse per esprimere quanto io l'abbia adorato in ogni momento avere questa voce che in qualche modo suona completamente diversa da quella che abbiamo sentito abbiamo letto e abbiamo conosciuto e abbiamo comunque imparato a riconoscere in tutto questo tempo grazie a Jane Eyre qui ecco assume una sostanza diversa la sostanza di Antoinette che io ho trovato davvero magica e anche comunque tutto il racconto che c'è dietro queste culture diverse questo villaggio giamaicano appunto che è fatto di tanti personaggi diversi che sono molto vicini ad Antoinette che sono pieni di superstizioni c'entra il voodoo c'entra la magia insomma è un mondo che ho trovato molto affascinante e poi che entra anche in contrasto con quello di Rochester che viene da Londra questo paese estremamente grigio quindi la contrapposizione tra questi due personaggi Antoinette e Rochester è feroce è come vi dicevo prima animalesca e l'ho trovata sublime un libro meraviglioso bellissimo come vi dicevo piccolo ma di un'intensità davvero incredibile il modo in cui Antoinette parla al lettore attraverso queste pochissime parole è estremamente intenso riesce a rapirti a sconvolgerti e ti lascia quel senso di magone come se per tutto questo tempo avessi praticamente vissuto nella follia e nella parvenza di una verità che invece non avevi mai compreso fino in fondo che è quella che ti ha raccontato Charlotte Bronte che ovviamente è una cosa da prendere con le pinze questa però il romanzo è così tanto potente la scrittura di Jane Rees è così tanto potente la sua credibilità nel raccontare questo prequel a Jane Eyre che ti porta appunto a questo pensiero se non avete mai letto Il grande mare dei sargassi e avete letto Jane Eyre rimediate subito a questo grandissimo errore perché io sono fiducioso anche voi rimarrete davvero stravolti da questa storia se dall'altra parte non avete letto mai Jane Eyre credo che sia un libro che riesce comunque a vivere di una sua propria natura quindi scostandosi completamente da Jane Eyre però credo che ecco i collegamenti che ci sono con la storia madre siano in qualche modo fondamentali per capire poi anche tutto lo sviluppo della storia e dove stiamo andando comunque qualunque situazione sia ecco leggete Jane Eyre e leggete Il grande mare dei sargassi perché è davvero un gioiello che io avevo completamente dimenticato e che sono molto contento di aver riscoperto tra virgolette sicuramente poi in futuro leggerò anche altro della Re sicuramente poi in futuro mi piacerebbe leggere anche altro della Re e concludiamo questo caldissimo wrap up sto letteralmente perdendo qualsiasi liquido residuo all'interno del mio corpo con l'ultima lettura di giugno ovvero Il suo corpo e altre feste di Carmen Maria Maciado edito in Italia da Codice Edizioni Il suo corpo e altre feste è una raccolta di racconti e io non sono solito leggere opere del genere invece per il futuro mi piacerebbe avere un occhio di riguardo soprattutto quando c'è un tema che tiene insieme tutti questi tutti questi racconti in questo caso abbiamo ben otto racconti otto racconti che spaziano tra generi letterari completamente diversi l'uno dall'altro si parte dal realismo magico per passare all'horror alla fantascienza a un certo punto l'autrice comincia questa riscrittura di dodici stagioni di Law and Order insomma ci sono tanti racconti che possono soddisfare tanti lettori diversi ma ovviamente c'è qualcosa che tiene fortemente collegato tutti questi racconti ovvero il corpo della donna a narrare tutti questi racconti ovviamente sono figure femminili completamente diverse l'una dall'altra che però mettono al centro della questione il loro corpo e la tematica viene toccata dall'autrice in modi altrettanto diversi come lo sono le protagoniste e i generi che vengono affrontati anche il tema è toccato da punti di vista diversi c'è la violenza c'è la sessualità c'è la malattia c'è il corpo visto come sinonimo di libertà o ancora di identità e ci sono dei racconti che ho trovato particolarmente stimolanti e anche molto molto d'impatto altri invece ne hanno convinto un po' meno la cosa che forse accomuna tutti questi racconti è una sorta di interpretazione personale che il lettore potrebbe dare a questi racconti ce ne sono alcuni più chiari dei altri molti in minoranza li ho trovati qualche volta eccessivamente fumosi come se il punto fosse sfuggito un po' o almeno è stata la mia impressione alla fine del racconto sta di fatto che però ogni racconto è riuscito a suo modo a darmi sensazioni completamente diverse l'una dall'altra perché l'autrice è riuscita effettivamente molto bene a creare da un racconto all'altro delle situazioni effettivamente complici i suoi protagonisti ma anche che molto spesso non hanno un nome quindi sono solamente dei personaggi che rappresentano più qualcosa più di voler raccontare la loro storia poi ci sono ambientazioni diverse anche appunto generi diversi ma ogni racconto riesce a lasciarti qualcosa riesce a sconvolgerti in qualche modo alcuni più e alcuni meno però l'ho trovata estremamente interessante come raccolta mi è piaciuta moltissimo devo dire che ero estremamente curioso anche di vedere poi racconto dopo racconto come l'autrice sarebbe ritornata sulla tematica del corpo e la riflessione in qualche modo cambiasse fosse vista da un punto di vista completamente diversa è interessante appunto dicevo molto interessante ve la consiglio assolutamente sì anche molto veloce comunque come raccolta non supera le 300 pagine anche in questo caso devo dire sono estremamente curioso di leggere altro dell'autrice la prima volta che leggevo qualcosa e sono partito da questa raccolta so ho visto in giro che ha scritto altri romanzi che però appunto non ho mai avuto modo di leggere ma dopo questa raccolta devo dire che mi piacerebbe provare anche qualcos'altro sicuramente poi anche qui dal punto di vista della prosa è molto molto viscerale ha una sostanza una sua tridimensionalità che dà il suo contributo all'interno di questi racconti che ci vengono proposti quindi anche qua molto 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 consigliato come vi dicevo all'inizio del video questo è stato un mese che mi ha soddisfatto tantissimo ho fatto letture diverse che mi hanno stimolato in modo diversi quindi molto molto contento delle letture che sono riuscito a fare a giugno vedremo ora come andrà luglio ora sono molto curioso di sapere le vostre letture di giugno che cosa avete letto a giugno qual è stato il libro che comunque è riuscito a conquistarvi di più e quello che invece magari ecco non vi ha convinto del tutto tra l'altro fatemi sapere se anche voi avete letto magari alcuni dei libri di cui ho parlato oggi in questo wrap up se magari vi hanno incuriosito in qualche modo quindi io spero che il video vi sia piaciuto e io vi aspetto nei commenti come sempre e noi ci vediamo a un prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti